Buonasera, ben trovati al Museo della Grafica, almeno a questi incontri che il Museo della Grafica sta organizzando in streaming, grazie anche alla collaborazione del Polo Multimediale, e subito ringrazio anche Vladimiro D'Angella e tutto lo staff del Polo che ci sta supportando. Stasera è un appuntamento d'eccezione perché inauguriamo un ciclo di incontri, per ora in questa modalità in streaming, però è un ciclo di incontri che ci terrà a compagnia durante questi mesi, in collaborazione con la Fondazione Ragghianti di Lucca, il centro di studi dice Carlo Ludovico Ragghianti, quindi un'istituzione di grande prestigio accomunata con noi dal nome di Ragghianti. Innanzitutto devo portare i saluti della nostra Presidente, la Professoressa Virginia Mancini e con lei dell'amministrazione comunale, i saluti anche del Sistema Museale di Ateneo e ringrazio la Professoressa Chiara Bodei. Quindi dicevo appunto il nome di Ragghianti che soprattutto accomuna queste due istituzioni, il Museo della Grafica del Comune dell'Università di Pisa e la Fondazione Ragghianti. Il Museo della Grafica, come sapete, ospita infatti le collezioni del gabinetto disegni e stampe, di quel gabinetto disegni e stampe fondato ormai alla fine degli anni 50 del Novecento da Carlo Ludovico Ragghianti, allora docente, allora direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa. E quelle collezioni formate proprio sul nucleo originario della donazione delle opere di Sebastiano Timpanaro Senior, costituiscono proprio l'anima, il cuore delle raccolte dell'Ateneo e oggi proprio del Museo della Grafica. Il nome di Ragghianti invece è proprio nata dalla Fondazione Allure, che è una brillante, vivacissima attività sia espositiva sia soprattutto come centro di studi e questo devo dire grazie molto anche al direttore, a Paolo Bolpagni, che peraltro abbiamo avuto il grande piacere di aver avuto la scorsa settimana come ospite e autore di una brillantissima conferenza su arte e musica, su Kandinsky e Musoski, che ha avuto un grandissimo successo e quindi torno a ringraziarlo. Ma lo ringrazio soprattutto per questa complicità nel proporre questa serie di storie, questi racconti che attraverso la voce dei più autorevoli studiosi di temi del Novecento raccontano proprio protagonisti, temi, momenti, luoghi della nostra cultura artistica e proprio del secolo scorso. Quindi il filo rosso raggiantiano, certo, perché unisce queste due istituzioni, ma soprattutto il filo rosso di un Novecento di cui speriamo di offrire tante suggestioni, tanti racconti in grado di originare altre storie, altri racconti. E certo, incipit migliore non poteva essere quello, se non quello, con Giorgio Morandi. Prima di tutto grazie anche all'autorevolezza della nostra ospite, Marielena Pasquali, che ringrazio davvero al profondo per aver accettato questo invito, ma lascio poi a Paolo Volpagni di presentarla. Ma poi anche perché Morandi, per esempio, è un nome centrale anche nella costituzione della raccolta e degli interessi di Sebastiano Timpanaro e quindi del gabinetto di segne e stampe. Timpanaro aveva studiato a Bologna, lui fisico e poi storico della scienza, aveva studiato a Bologna e proprio per questo, come poi confessava all'amico Luigi Bartolini, aveva questa grande passione per Morandi, capace, come proprio scriveva Luigi Bartolini e Sebastiano Timpanaro, di lasciare tra le cose più belle dell'arte italiana di oggi. E' proprio vero, le cose più belle, le cose più emozionanti, sia a livello pittorico, sia a livello grafico. Quindi è un nome, sono argomenti, è un tema, oltretutto questo declinato sui luoghi estremamente affascinante. E io a questo punto cedo proprio la parola a Paolo, ringraziandola ancora per questa condivisione, di questa bellissima avventura tra le storie del Novecento. Grazie, molte grazie ad Alessandro, ad Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica di Pisa, con cui abbiamo composto questo programma, appunto, Storia dal Novecento, che comincia oggi, come diceva appunto anche Alessandro Tosi, un inizio scelto non a caso. Giorgio Morandi in effetti è un artista che fu legato a Carlo Ludovico Raghianti e Carlo Ludovico Raghianti a lui legato, ci fu una stretta conoscenza tra i due. E la relatrice, quella che ci parlerà oggi dei luoghi della vita e dell'arte di Giorgio Morandi, è una studiosa che ha dedicato una parte davvero cospicua della propria attività allo studio, alla valorizzazione di questo straordinario, questo aggettivo a volte abusato, in questo caso invece è assolutamente adeguato, questo straordinario artista italiano del Novecento. Maria Elena Pasquale, infatti, che è critica e storica dell'arte, è colei che fondò nel 1993 e che diresse fino al 2001 il Museo Morandi di Bologna. E su Morandi ha curato, diciamo, negli ultimi trent'anni, anche un pochino di più, molte mostre in Italia e all'estero. Ovviamente la prima progetto Morandi tra l'88 e il 90, passando per la mostra del centenario nel 1990, una mostra a Tokyo, quella al Museo Thyssen di Madrid nel 99 e molte altre, insomma c'è anche una molto interessante su Morandi e Licini. e oltre all'attività di curatrice di mostre dedicate a Giorgio Morandi, Maria Elena Pasquale ha anche scritto la monografia Giorgio Morandi, studi e ricerche 1990-2007, ha fatto il catalogo ragionato degli acquerelli nel 91 e quello dei disegni di Morandi nel 94, ha curati i carteggi tra Morandi e Cesare Brandi, tra Morandi e Carlo Dudo Vittorio Aghiati, Cesare Gnudi, quello tra Morandi e Giuseppe Raimondi. Una delle realizzazioni più recenti è il catalogo generale delle opere 1985-2016, dove questi due anni non si riferiscono ovviamente alla data di eseguzione delle opere, ma alle opere di Morandi riconosciute come autentiche nell'attività del Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna. E poi c'è l'ultimo libro, recensito anche sulla rivista, su una delle due riviste della Fondazione Radianti e Critica d'Arte, l'ultimo libro, Il Sentimento delle Cose, che è una raccolta di saggi di Marilena Pasquali, appunto dedicata a questo artista. Come anticipavo, Marilena Pasquali è Presidente del Centro Studi Giorgio Morandi e del Comitato per il catalogo delle opere di Morandi. Oggi, nello scibile della grandissima attività, dei molti studi, delle molte conoscenze su Giorgio Morandi, Marilena Pasquali ha scelto di parlarci in maniera particolare dei luoghi, dei luoghi della vita e dell'arte. Però chiederei a Marilena se è d'accordo di cominciare, anche a beneficio di un pubblico non necessariamente specialistico, magari offrendoci un breve profilo biografico dell'artista, con l'ausilio magari anche di immagini, per passare poi a trattare il tema appunto dei luoghi, magari il luoghi della vita. A volte Alessandro Tose, il Museo della Grafica, coloro che ci stanno ascoltando, e la nostra relatrice, Marilena Pasquali, decendo la parola e auguro a tutti una buona conferenza, buon ascolto e buona visione. Prego Marilena, a te. Grazie Paolo, grazie Alessandro, grazie di avermi invitato soprattutto, come prima cosa, come dico spesso, invitarmi a parlare di Morandi per me è sempre un invito a nozze, quindi persino da remoto, cosa difficilissima, perché non ci si vede, non si è insieme, ma andiamo avanti, andiamo avanti. E sì, cominciamo da due brevissime notte biografiche, ma come si sa, se non si vuole andare ovviamente, più insomma, ricercarne al profondo, parlare della vita di Morandi è poi tutto sommato cosa piuttosto rapida, perché come egli stesso disse in un'intervista, una delle pochissime interviste, credo che siano cinque in tutto, rilasciate durante la sua vita, in un'intervista del 58 a uno studioso, Eduard Roditi, lui ha una domanda precisa dell'intervistatore, rispose dicendo che aveva avuto, lo dico in italiano perché l'intervista poi è in inglese, aveva avuto la fortuna di una vita priva di eventi significativi, si direbbe il contrario, ognuno di noi desidera fare chissà che cosa, no, Morandi desiderava stare tranquillo, e questo è verissimo. In questa vita priva di eventi particolarmente significativi, o comunque di grossi salti, di grossi cambiamenti, che cosa possiamo dire? Morandi nasce a Bologna nel 1890, studia l'Accademia di Belle Arti, dove si diploma nel 13, sono proprio pochi dati rapidissimi, magari andiamo con la prima immagine, anzi così, ecco questo è un autoritratto di Morandi del 1924, ora agli uffizi, nel famoso corridoio lasariano, che poi non è più tale, diciamo nella galleria dell'autoritratto, è stato lasciato agli uffizi come legato testamentario da Lamberto Vitali, primo grande e fondamentale catalogatore appunto dell'opera di Morandi. Mi diceva appunto, Morandi si diploma nel 13, praticamente la sua opera, per quanto se ne sa, ma è così, si può dire che inizi nel 1910, 1911, sia a livello pittorico e anche a livello grafico, con una prima incisione nell'11. E quindi insomma da qui, ecco possiamo vedere già la prossima, perché in questa semplicità di racconto, mi piace questo concetto di raccontare Morandi, appunto è questo ragazzo, qui lo vediamo già adulto, vi dirò dove siamo arrivati a questo punto, questo giovane appunto diplomandosi nel 13, ha già le idee molto chiare, si guarda intorno, soprattutto alla grande arte francese, soprattutto Cézanne come si sa, ma anche poi Henri Rousseau, le Duanier, insomma ci sono diversi riferimenti, che so, i fiori di Renoir per dire, la Biennale del 10, insomma ci sono diversi riferimenti, ma soprattutto appunto si guarda intorno con grande acutezza, diciamo, per apprendere, proprio per prendere, per fare sue certe notazioni, proprio sulla costruzione dell'immagine. Morandi inizialmente è noto solo in un piccolo cerchio di intellettuali, soprattutto poeti, ancora prima che artisti, comunque poeti e artisti soprattutto, e poi questo accade, anche pochissimo a Bologna, soprattutto Firenze e poi Rome, ma poco a poco questa ampia notorietà aumenta, fino a quando intorno al 1928-1930 possiamo dire che, insomma, comincia ad essere conosciuto anche grazie ad alcuni articoli importanti, usciti che so, di Soffici, di Carrà nel 25, eccetera, di Soffici nel 28, eccetera. La foto che abbiamo visto prima, quella subito precedente, no, quella precedente, era quella di prima, si riferisce, qui vediamo, ecco, ancora quella di prima magari, quella precedente, ecco, sì, questa si riferisce alla Biennale del 48, che forse è stato il punto, così, invito ovviamente, di Morandi, di maggior riconoscimento, non dico è successo, ma insomma, perché nel 48, la prima Biennale riformata del dopoguerra, Morandi riceve, si vede assegnare, il primo premio per la pittura. qui lo vediamo davanti a un suo dipinto metafisico del 1918, ora a Brera, ex collestione Iesi, ora a Brera, perché davanti a un dipinto così vecchio nel 48? Perché di fatto è un premio alla carriera, ma ufficialmente viene dato nell'ambito di una mostra di artisti italiani, che sono poi quelli della metafisica, cioè De Chirico, Morandi e Carrà, artisti italiani tra il 10 e il 18, o il 19, no, tra il 10 e il 20, presentata da Francesca Arcangeli. Ecco, in questo quadro gli viene dato, gli viene assegnato il primo premio, che come vi dicevo di fatto, però è un premio a tutta la sua carriera, perché nel 48 Morandi era già, non dico il Morandi di oggi, però insomma negli ambienti intellettuali era già considerato tale. La prossima immagine, ecco, questo ci mostra un Morandi dentro la sua camera studio, di cui parleremo appunto, parlando dei luoghi, ci mostra un Morandi sorridente, di solito le foto sue sono tutte foto di un uomo innanzitutto anziano, mentre invece ci sono pochissime foto di Morandi giovani, mentre invece poi appunto è stato giovane come tutti, e invece praticamente anche gli aneddoti, i ricordi, le testimonianze, quasi sempre si riferiscono al Morandi del secondo dopoguerra, per vari motivi, anche le lettere, tutto quello che sappiamo insomma, anche perché ci fu un trasloco nel 33, sempre lì, sempre in via Fondazza, sempre a Bologna, ma durante il quale Morandi perse molte cose, molti documenti, per cui anche a livello proprio di archivi, eccetera, noi abbiamo moltissime cose sul Morandi già adulto, perché in fondo nel 33 Morandi era già un uomo di 43 anni, non era proprio un bambino. Ecco, in questo caso lo vediamo nel suo studio, è una foto del 56, fatta proprio da Lamberto Vitali, e quella signora di cui si intravede solo una mano, era la splendida, splendida moglie di Lamberto Vitali, si chiamava America, come l'America, e così, insomma diciamo che Morandi era abbastanza sensibile, poi a tutto ciò, a questa bellezza, e per cui in questo momento, ad esempio, lo vediamo sorridere, andiamo avanti, perché ce n'è ancora una, così, questo è un brevissimo, ecco vedete, qui ho Roberto Longhi, Morandi e Longhi sono tutte e due del 1890, si conoscono, non si conoscono a Bologna, quando Longhi arriva per insegnare storie dell'arte all'università, anzi nel 34, nel 1934, anzi destò addirittura, più che scandalo, scalpore, ma anche scandalo, il fatto che Longhi nella sua prolusione all'anno accademico, della sua cattedra, appunto parlò dei grandi pittori bolognesi, che so del 300, e poi naturalmente del 600, Guercino, Reni, Carracci, Reni, e poi saltò a piedi pari l'800 bolognese, devo dire che io sono assolutamente d'accordo con lui, salvo due casi di due artisti, ma saltò completamente l'800 per parlare di questo nuovo artista, che lui definì un nuovo incamminato, in questo modo ricollegandolo poi all'Accademia dei Carracci, quindi il fatto di vedere in lui questo nuovo classico, diciamo saltando tutti gli altri che l'avevano preceduto, naturalmente a Bologna gestò parecchio scalpore, e poi sono rimasti amici sempre, forse Longhi avrebbe dovuto scrivere lui la monografia, ma in realtà questo non è mai accaduto, di Sumo Randi ci restano soprattutto i suoi due testi corti, molto brevi, importantissimi, uno per una piccola personale alla Galleria del Fiore di Firenze nel 1945, figuratevi il 21 aprile del 1945, è il giorno, Firenze era già liberata da un pezzo, invece è il giorno in cui viene liberata Bologna, e quindi in quel giorno Longhi non sapeva ancora nulla di Morandi, non aveva più saputo nulla, non spesso fosse vivo, morto, niente, però inaugura questa piccola mostra, e nel testo si inaugura di poter ancora camminare sotto i portici della vecchia Bologna, e poi ancora quando Morandi muore, nel 1964, qui fanno con questo piccolo excursus biografico, Morandi muore nel giugno del 1964, durante i giorni della vernice della Biennale di Venezia, e la sua morte rappresenta quasi uno spartiacque, è la stessa Biennale in cui viene presentata in Europa, Venezia, la poparta americana, e quindi insomma è proprio una sorta di spartiacque fra due mondi, e questo pezzo ci fu, e fu la commemorazione radiofonica tenuta da Longhi, avrebbe dovuto farlo Cesare Brandi, ma Longhi in qualche modo lo chiese, insomma la fece lui, e questo testo veramente importantissimo, fu poi pubblicato su Paragone, con il nome, con il titolo Exit Morandi, e qui che lui parla appunto, conclude dicendo che quando il tempo, adesso io sto parafrasando naturalmente, quando il tempo farà giustizia, e farà un po' di spazio, un po' di chiarezza, quello di Morandi sarà uno dei pochissimi nomi, che resteranno di questo secolo, lui diceva, cioè del ventesimo secolo. Ecco, naturalmente, chiuderei qui queste brevissime note, appunto dicendo che al di là delle occasioni, chiamo dire, artistiche, non ci sono eventi particolari, non ci sono fatti particolari nella vita dell'artista, che appunto ha sempre vissuto a Bologna, e qui veniamo poi ai luoghi, ha insegnato l'academia prima, addirittura, lui si diploma nel 13, viene incaricato dell'insegnamento del disegno, pensate, nella scuola del comune di Bologna, e lo mandano a insegnare anche in montagna, in pesotti sperduti, così, poi nel 29, gli viene riconosciuta, per Chiara Fana, senza concorso, nel 29, il ministero, come puoi dire, creò per la prima volta, la cattedra di tecniche dell'incisione, in tutta Italia, non solo a Bologna, e quindi, non c'era prima un insegnamento, Morandi che aveva fatto all'accademia, pur essendo questo grafico straordinario, è di fatto un'autodidatta, perché sì, lo curava un po' il professore, che insegnava anche pittura, ma niente di più, per cui insomma, lui nel 29, si vede riconoscere appunto, l'insegnamento all'Accademia di Belle Arti, di tecniche dell'incisione, e l'ha mantenuto, proprio temperando ogni anno, con un estremo rigore e disciplina, l'ha tenuto fino al 56, quindi aveva già 66 anni, quando chiede di andare in pensione, chiedendo ad esempio anche a Brandi, di aiutarlo, perché poi, anche in sede di allora, il suo direttore non voleva lasciarla andare a casa, però in effetti nel 56 Morandi va in pensione, appunto muore nel 64, e quindi questi ultimi otto anni sono fondamentali, perché lavora moltissimo, negli ultimi anni lavora moltissimo. Ecco, questo così, per dare intanto qualche riferimento, e si può tener conto del fatto che c'è una leggenda, una volgata, che fa di Morandi una sorta di monaco della pittura, io ogni tanto ridendo, dico una specie di stilita sulla sua colonna, che non ha praticamente rapporti col mondo, eccetera, non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Morandi è vero che cercava, desiderava la solitudine per poter lavorare, sicuramente era un carattere chiuso, ma aveva degli amici, aveva molte persone che lui rispettava, molte altre non gli andavano giù, e quindi era anche piuttosto duro, con quelli che non stimava, diciamo, non è vero che è rimasto sempre chiuso, tra Accademia e via Fondazza, questa via Bologna, nel centro storico, seppure diciamo all'estremo limite, in teoria, quelle che sarebbero state le mura, fino al Novecento, e quindi era dentro il centro storico, non proprio in piazza maggiore, diciamo, e quindi non è vero che è rimasto sempre chiuso in casa. Morandi faceva diversi viaggi, tutta la vita, poi di fatto viaggi appunto a Roma, a Firenze, Venezia per la Biennale, dove non solo ha esposto, ma molte volte in commissione di ammissione, per i vari artisti, o per gli acquisti, e anche ovviamente Milano, le quattro, e quindi veniamo già ai luoghi, come vedete, le quattro città che lui frequenta, soprattutto, sono queste, e le frequenta per motivi diversi, Firenze perché ha degli amici, Firenze è forse la prima città che riconosce Morandi, non solo per artisti come Rosai, o dal 28 in poi Soffici, ma proprio anche per i poeti, l'ambiente dell'ermetismo, Fiorentino, insomma, e anche prima, un po' prima, va bene, e poi invece Roma, per tutto un giro, diciamo, di critici, storici dell'arte, pensate a Brandi, che a un certo punto da Siena, va avanti e indietro, tra Siena e Roma, pensate a Bergan, amicissimo di Brandi, che stimava moltissimo Morandi, e anche di giovani artisti allora, Milano per il collezionismo, soprattutto i collezionisti grossi di Morandi, anche dagli anni 30 in poi, sono soprattutto a Milano, anche grazie alla Galleria del Milione, di Gino Ghiringhelli, e Venezia per i Biennali, ecco, queste sono le quattro città che lui frequenta di più, fuori Bologna naturalmente, e poi ecco, soprattutto Morandi, anche standosene a casa sua, è sempre in contatto con le menti migliori, ma molti fra gli intellettuali più interessanti d'Italia, un po' perché gli altri lo stimano e si rivolgono a lui come pari, un po' perché egli stesso poi si circonda e ama circondarsi di persone di altissimo livello, e con loro parla poi di tutto, io ho lavorato tanti anni insieme a Maria Teresa Morandi, l'ultima sorella, e vi devo dire che appunto parlavano di politica, di cibo, di funghi, di cani, di qualsiasi cosa, più difficile parlare di pittura con Morandi, è difficilissimo entrare nel suo studio, ecco, questo magari possiamo chiudere qui questa prima parte, e andare velocemente avanti, perché eccoci qua, i luoghi di Morandi, si diceva innanzitutto Bologna, ma questa è Grizzana, perché innanzitutto Bologna, perché Bologna è il centro della sua esistenza, sicuramente della sua vita, non c'è dubbio, penso che gli amasse veramente la città, seppur con una sorta di, diciamo, non dico odio amore, però con qualche sana, e giustificata diffidenza, perché, non è affatto tempo i pittori bolognesi, ma i pittori bolognesi gliel'hanno giurata, quindi per parecchio tempo, e forse ancora oggi devo dire, questa diffidenza, questa sottovalutazione, anzi dell'opera di Morandi a Bologna esiste, rimane, c'è, oggi tutti sanno che è un grandissimo artista, però insomma, vabbè, non dico le generazioni più giovani, ma magari vecchi, magari non ci sono più, però insomma, questo filo un po' contrario c'era, anche intendiamoci per colpa sua, comunque Bologna era la sua città, non c'è dubbio, per esempio, anzi, vi dico subito, che ho portato praticamente come immagini solo dipinti, ma proprio perché so che voi avete questo bel museo di grafica, queste collezioni importanti, dove c'è anche Morandi, naturalmente perché Tiffanaro era un suo referente, un suo amico, però insomma, ho pensato appunto che sia magari più così, per contrasto, più interessante vedere la parte dipinta, ma alcune immagini di Bologna, non ci sono paesaggi di Bologna, assolutamente, se non del cortile interno di Via Fondazza, che è appunto là dove lui abitava, ma ci sono però delle immagini all'inizio degli anni 20, 23, 24, quegli anni lì, fatti proprio all'incisione, all'acqua forte, abbiamo due lastre sul campo da tennis ai Giardini Margherita, che sono così, un piccolo parco che è a Bologna sotto le colline, abbiamo un'altra incisione che rappresenta Casa Carducci a Bologna, insomma, qualcos'entra c'è, un paesaggio dell'osservanza, un altro paesaggio della Montagnola, che è un altro parco bolognese, verso la stazione, e però insomma, diciamo, sono immagini che lui ha fatto da giovane e all'acqua forte, in pittura non c'è nulla, non c'è nulla che possa riferirsi chiaramente, parlo di paesaggi naturalmente, a Bologna, invece, Grisana, noi qui abbiamo, nel 2013, Morandi, se Bologna è la sua città, Grisana rimane la sua aspirazione, in qualche modo, cioè, egli desidera d'estate andare a Grisana, non può andarci tutta la vita, non può andarci ogni anno, inizia nel 2013, e nel fuoco delle polemiche, perché poi nel 2013, Morandi è appena diplomato, è anche contro i suoi professori, insomma, ci sono, sarebbe molto lunga, perché parlare di Morandi ci vorrebbero ore, non è il caso, ma, quindi, dal fuoco delle polemiche cittadine, compresa una curiosità, e non di più per il futurismo, beh, improvviso, d'estate, insieme alle famiglie, alle sorelle, Morandi aveva una mamma e tre sorelle, il babbo era già morto, si trasferiscono a Grisana, per un puro caso, perché una sorella ha conosciuto, sono un po' così, un aneddoto biografico, diciamo che il primo impatto è casuale, la prima conoscenza è casuale, e solo che questa conoscenza casuale, poi si trasforma in amore, forse per queste pendici, così, pieni di luce, un po' scabre, dove l'aria passa limpida, perché Grisana è sul crinale, tra Bologna e Firenze, e non è in fondo valle, è in cima, cioè in cima, 600 metri, però, insomma, intorno a delle piccole cime, diciamo, se volete coperte anche di boschi, ma l'aria è limpida, il cielo è sempre pulito, e quindi Morandi si innamora di questa pulizia, di questa secchezza, di questa nitidezza dell'aria, ecco, e quindi da allora, quando può, tornerà, vediamo la prossima, che siamo già più avanti, la prossima immagine, eccola qui, pensate, tanto per darvi una scaletta, Morandi può andare, anzi, diciamo, va a Grisana, innanzitutto nel 13-14, poi c'è la guerra, quindi tutto si interrompe, anche qui, teniamola breve, Morandi viene riformato, perché fin da giovane ha sofferto di reumatismi fortissimi, fin da ragazzo, un po' raccoccolato dalle sorelle e dalla mamma, un po' forse era un po', non so, misantropo, non riesco a dire no, misantropo no, ma comunque aveva un po' le sue manie, risultato, riesce, ha sofferto molto, ha sofferto molto questo ragazzo, fin da giovane proprio, tanto che nel 17, subito prima della svolta della metafisica, pensate, di questa stagione improvvisa della metafisica, Morandi sembrava quasi che se ne andasse, ci sono testimonianze, anche di Riccardo Bacchelli, sembrava che stesse per salutare, e invece insomma ce l'ha fatta e non è uscito benissimo. Bene, quindi 13-14, la prima volta, tornerà a Grisana nel 27, gli anni precedenti non ci va, non riesce ad andare, fa piccole cose, sempre in altri paesotti dell'Appennino, ma niente di più, dal 27 al 33, e questo appunto è un dipinto del 27, vedete, ecco, vi parlavo di quest'aria limpida, questo è già in pieno Morandi, la pulizia dei suoi colori, questo color miele sole che lui ritrova nella casa come anche nel terreno, unito all'azzurro, questo quadro io lo conosco, lo conosco bene personalmente, lo esponiamo proprio la prima volta, l'ho visto io naturalmente, alla mostra con Licini a Fermo nel 2011 e vi posso assicurare che per esempio il cielo azzurro è dato dopo, viene quasi addirittura va sulle prime fronde lì degli alberi, le fronde più alte degli alberi, quindi è un cielo assolutamente pulito che gli è servito per aprire lo spazio proprio. Questo quadro era di Antonio Baldini, ad esempio, lo scrittore, quindi insomma per dirvi come poi, ecco, possiamo andare al prossimo, non perdiamoci troppo se no di Morandi, ecco vedete, questo è del 35, perché questi salti? Per darvi alcuni esempi, Morandi appunto va a Grizzana d'estate dal 27 al 33, poi non si sa esattamente il perché, cioè non abbiamo delle notizie sicure, dal 34 al 38 andrà in un altro paese che è sempre a 600 metri, sempre nella penino bolognese, si chiama Rocca di Rofeno, ma è sul fondo valle e quindi ha una, come dire, una vegetazione, una ricchezza d'acqua e tante polle sorgive, tanti punti, insomma, in cui la vegetazione è più densa, è più rigogliosa e anche il suolo è più umido, insomma, c'è una diversa anche qualità della luce, io credo che sia questo il buono. Allora, il primo anno, nel 34, dipinge paesaggi molto più, come dire, rigogliosi, ma già nel 35, vedete, questo è un quadro che sta a Milano e vedete, già nel 35 ripulisce e di nuovo ha queste scansioni così limpide, queste cromie e anche la struttura, la costruzione dell'immagine, vedete, così a fasce sovrapposte, quasi a cubi, cioè adesso vedremo, adesso fra poco, vedremo un paragone, un confronto con una natura morta, con la composizione di oggetti e insomma, le analogie sono sempre strettissime. Addirittura, alla fine, con Morandi, soprattutto nei disegni, si fa fatica a capire se sia quello che noi stiamo guardando in quel momento sia una natura morta oppure sia un paesaggio, proprio perché le linee ormai costruiscono volumi e basta. Andiamo alla prossima, anche questa che vedremo è del 35, 36, è un'opera che io trovo straordinaria, è un paesaggio sempre di Rofeno, di Rocca di Rofeno, quindi vedete, è più pieno di natura, quasi una cascata che viene verso di noi e c'è quella specie di spazio bianco fra i due alberi lì su, nella parte più alta, nella fascia superiore e sembra quasi quella specie di bottiglia, io la chiamo una bottiglietta bianca, come in tante motore morte appunto degli anni 30 si ritrova questa specie di presenza centrale che illumina tutto il resto della composizione, anche in un paesaggio come questo lui fa la stessa cosa. Andiamo avanti velocissimi, vediamo la prossima. ecco, qui perché dopo quattro stati passati a Rofeno, Morandi torna a Grezzana, questo del 40, un quadro, vedete, straordinario, fra l'altro è molto grande, questa appartiene alla collezione di Giuliano Gori a Santo Matto, a Celle insomma, vicino a Pistoia e un quadro anche questo, ecco, vedete come sono costruiti i quadri morandiani sempre per fasce sovrapposte, è chiaro che l'appiglio alla realtà non manca mai, qui poi siamo addirittura a plein air, tenete conto che Morandi solo nel secondo dopoguerra, essendo già un uomo di una certa età, quando andava a Grezzana e ne parleremo, non dipingeva più diciamo dal vero, cioè restava nel suo studio e attraverso la finestra guardava i suoi paesaggi abituali, quelli che lui amava e li riprendeva da lontano, ma fino al 43 lui andava andava in giro su a Grezzana, nel studio di Grezzana c'è ancora il cavalletto e ci sono i colori, il cavalletto portatile, la valigina con i colori e lui faceva delle lunghissime passeggiate, magari andava anche a funghi o girava col suo cane, ma soprattutto andava a dipingere e qualche anno fa insieme a un vecchio come dire, contadino di Grezzana che allora ovviamente era un bimbo ma si ricordava, abbiamo ripercorso i giri morandiani su queste colline che sono poi fino alle case della sete, queste sono le case del Campiaro, famosissime case del Campiaro che poi a un certo punto diventeranno quasi un codice nella pittura morandiana perché quelle finestrelle che voi vedete così a semicerchio ecco a un certo punto per chi conosce bene i morandi basta vedere un pezzettino anche in un disegno di una casa con quella finestrella una o due per capire che siamo al Campiaro, queste tre case che lui amava moltissimo e che erano vicine a dove lui andava in affitto e poi dopo appunto adesso ci arriviamo si è fatto costruire una casa questo è del 40 andiamo al prossimo andiamo alla prossima immagine ecco vedete di nuovo questa pulizia assoluta li ho portati apposta questi paesaggi perché io continuo a insistere su questa vicinanza 42 vicinanza fra natura morta e scorcio di natura che però lui vede sempre così come forma pulita forma geometrica nell'incontro però col verde della vegetazione che in qualche modo rende viva viva questa forma però soprattutto per me la luce è quello che dà la vita alle opere di Morandi andiamo alla prossima vediamo cosa ecco vedete apposta vi dicevo queste qui dobbiamo un po' pensarle insieme questo è un po' più avanti del 45 però vedete ecco queste forme in primo piano questa bottiglia gialla che è una delle due cosiddette bottiglie persiane così come quel barattolo quella scatola anzi in secondo piano verso il fondo sulla nostra destra ecco vedete queste accensioni di luce lui riesce io guardando i quadri di Morandi riesce con lo stesso colore cambiando semplicemente la direzione dell'anellata a dare la sensazione del distacco dal fondo cioè il fondo di Morandi è tutto a zigzag è una pittura molto nervosa e magari è un color miele diciamo come spesso accade oppure un grigio rosato oppure un più verso il salmone no più verso l'azzurro ecco ma con un solo tratto di pennello con una singola pennellata Morandi riesce a dare il senso di un volume cioè la creazione della forma ma la forma che si sta che sta nascendo dal fondo è come se energesse dal fondo e in questo caso un pochino si vede anche qui dietro la bottiglia persiana in primo piano gialla quella specie di vaso un po' rosso così vedete che ha quella la parte del collo che sembra quasi aperta allo spazio del fondo quello che si dice la polvere per Morandi non è per amore del bric-a-brac o delle cose di broccanterie come si dice è perché la polvere gli serve per creare come dire un semitono fra i vari colori cioè crea il passaggio andiamo avanti perché io se parlo sono sempre troppo lunga ecco ora qui ci sono due paesaggi del 43 scusate questo è del 43 era di una collezione privata l'ho esposto molte volte ora è stato venduto nel 43 Morandi è spollato a Grizzana è spollato dal fine maggio e resterà lì fino ai primi di settembre del 44 quando la situazione è diventata così pericolosa per l'avanzare ovviamente delle truppe naziste che dalla Toscana stanno venendo verso Bologna appunto con la famiglia riuscirà cioè riuscirà torneranno a Bologna ai primi di settembre del 44 diciamo evitando per quanti sono diciamo era circa l'8 settembre per una ventina di giorni la strage di Montesole la strage quella che viene abitualmente chiamata la strage di Marzabotto è una strage che prede tre comuni appunto sul crinale Marzabotto Grizzana e di fronte anche il comune di Monzuno nella vallata e quindi anche Grizzana ha avuto i suoi morti eccetera ma soprattutto in effetti quelli che vivevano nei casali appunto sul crinale del Montesole ecco Morandi nel 43 avverte questo senso di morte e costruisce paesaggi assolutamente vuoti è un vuoto e un silenzio che grida io feci una mostra che io devo dire amo ancora moltissimo parecchi anni fa e la chiamai l'immagine dell'assenza cioè l'assenza come metafora della morte attesa di qualcosa che deve arrivare da di là quel crinale arriverà dal di là per invadere questo mondo e tutti questi alberelli in primo piano non so io li ho sempre visti come una sorta se volete anche di preghiera laica sembrano quasi non so gli alberelli a cui vengono poi appesi impiccati no cioè insomma una sorta di come dire riconoscimento di una violenza che può essere sconfitta appunto di nuovo solo dalla luce e da una visione totale dell'uomo della natura del mondo il prossimo il prossimo paesaggio vediamo per finire e vorrei arrivare anche allo studio alle nature morte ecco mi vorrebbe la prossima immagine grazie ecco qui lo vedete purtroppo un po' giallino ma in realtà è una sinfonia di grigi questo quadro questo è l'ultima neve del marzo 44 è un dipinto straordinario che sta in un'unica un'unica un'assoluto e come se si parla con questa luce poi lì eccetera improvvisamente di queste improvvisamente stasse soltanto lo scheletro mi diceva Marquesa Morandi che lui ha smesso di uscire il 43 quindi poi è venuto la neve fra l'altro un inverno molto duro molto freddo e quindi mi imprende a fino tra l'esagio della Tuglia insomma lui è l'ultimo paesaggio che ha fatto a Grigianna nel 44 non mi dipinge il natore morte perché non aveva portato con sé in campagna in montagna i soggetti che sono lì che li chiamava lui e quindi non si è dato non dipingeva natore morte e quindi è stato tutto l'inverno in solitudine la sud da solo con la mamma e le sorelle senza poter praticamente dipingere che per lui ovviamente è una cosa terribile è una cosa peggiore ecco andiamo avanti ancora rapidamente con la prossima Morandi non tornerà a Grigiana per molti anni se si leggono le sue lettere sembra che egli non torni semplicemente per motivi casuali non so scrive a Brandi o a Magnani anche per quest'anno non è possibile andare a Grigiana e fa delle piccole vacanze che so va a fare le cure termali qua in Lava a Merano nel 46 va a Levico nel 57 58 in realtà è perché non riesce a come dire a togliersi dal cuore dalla testa l'impressione fortissima degli ultimi giorni passati a Grigiana quando ha visto anche un rastralamento nazista nei confronti di 13 giovani del paese portati a morire fucilati poco più in là eccetera per cui non tornerà più a Grigiana fino al 58 e questo di solito non si dice uno pensa che sia sempre nato là no non è vero dal 44 al 58 Morandi e che cosa faceva durante quegli anni tante nature morte naturalmente e qualche paesaggio ripreso dalla finestra del suo studio dalla camera studio e quindi paesaggi del cortile di via fondazza questo è uno del 54 straordinario lo vedete ecco questa cosa chiara che si vede sulla sinistra è un muro naturalmente in foto non si capisce quasi niente quando lo si vede dal vero si vede una ricchezza di pittura incredibile indubbiamente Morandi va anche letto proprio come pittore come grandissimo pittore è tutto un vibrare di questa superficie con anche le sue asperità dell'intonaco questa caduta che si vede un pochino insomma è una pittura di materia anche di materia seppur leggerissima che diventa poi pura luce come si vede con queste case nello sfondo trasformate come abbiamo visto prima in puri cubi in forme geometriche e questa vegetazione che crea una sorta di equilibrio perché forse potrebbe diventare persino non fredda molto astratta ecco l'aggancio alla realtà in Morandi rimane andiamo alla prossima la prossima immagine vediamo un po' che cosa ecco questo è un altro paesaggio scusate cortile di via fondazza del 57 qualche anno dopo lo vedete io lo amo moltissimo questa è una neve Morandi ha fatto pochi dipinti di neve ce n'è uno già del 10 uno dei primi uno dei due primi dipinti di Morandi ma questo appunto a me piace moltissimo per questo ramo secco davanti allo stesso muro che abbiamo appena visto guardate i colori al di là del fatto che queste sono immagini così ma un pochino i colori si colgono la diversità fra questi due quadri quando io sento dire non solo perché sono ovviamente una Morandiana di strettissima osservanza ma quando io sento dire che Morandi è monotono un po' più impazzisco perché forse in foto rende meno ovviamente anzi senz'altro non forse ma quando i quadri di Morandi si vedono dal vero sono talmente diversi uno dall'altro anche nelle varianti ci sono case in cui lui ha fatto 10 composizioni di oggetti sulla stessa base diciamo con gli stessi pezzi eppure sono i dipinti che ne escono sono veramente uno diverso dall'altro andiamo alla prossima rapidamente andiamo alla prossima immagine ecco questo nel 58 vi dicevo Morandi torna a Grisana d'estate è sempre lui di solito ci andava in giugno e tornava a Bologna in settembre torna nel 58 perché in quel cortile che abbiamo appena visto gli costruiscono un muro davanti cioè c'è il cortile ma al di là della piccola zona verde costruiscono un nuovo palazzo quindi un muro che gli toglie la luce che lui desidera che lui è sempre amato allora decide di farsi costruire una villetta grizzana questa villetta che c'è ancora è un cubo bianco quando uno la vede dice ma come uno dei grandi artisti del ventesimo secolo sta in una casa che è proprio la casina classica non so voglio dire da geometra scusate mi scusino tutti i geometri ma insomma non ha nulla che la distingua è perché lui amava queste forme pure queste forme semplici nel 58 è ancora a pensione mentre gli stanno costruendo la casa 58-59 e dalla finestra più alta di questa pensione dove stava vede una casa bruciata e fa una serie di acquarelli come questi che riprendono cioè queste forme lo espirano queste forme così come dire rese e proprio arse combuste quindi rese al minimo lo espirano e fa una serie di una decina di acquarelli di questo genere andiamo velocissimi agli ultimi paesaggi perché vorrei arrivare alla Natura e Morte allo studio di Bologna proviamo la prossima immagine ecco va bene questo è un paesaggio tardo perché appunto dopo essersi fatto costruire la casa che è di fronte ai fienili del campiaro vedete le famose finestrelle di cui vi parlavo prima lui stando alla finestra ora ricomincia a fare paesaggi e si ricollega esattamente a quelli del 43 qui come vedete c'è più libertà guardate quell'alberello l'immenso tutto come è costruito è un quadro molto libero però indubbiamente anche nei disegni a volte si fa fatica a capire se è un disegno del 43 o del 63 pensate a vent'anni di distanza con un processo con uno sviluppo dell'immagine morandiana dell'arte morandiana però lui proprio secondo me lo va a costa cioè riparte da lì e ricomincia un percorso che però purtroppo si concluderà l'ultima estate quella del 63 perché appunto lui poi si amala tu mora ai polmoni e morirà nel giugno del 64 quindi nel 64 non riesce ad andare a Grisana vediamo l'ultimo di questi paesaggi l'ultima immagine ecco vedete questo velo sempre del 63 guardate cosa sono diventate le case della sete le case annidate su sotto il crinale assolutamente sono due forme geometriche non c'è più nient'altro non c'è più nient'altro si mantiene questo come dire il senso di questo accucciarsi quasi di una protezione richiesta al crinale qualcosa che non le sovrastanze le accoglie le abbraccia però non c'è più nulla persino il tetto è diventato quasi vedete dello stesso colore delle due forme principali e vediamo adesso la prossima che è una natura la prossima immagine per favore eccola guardate una natura morta sempre del 63 è la stessa cosa è la stessa cosa in questo esempio poi tardo direi che quello che sto cercando di dire che insomma in fondo lo sguardo di Morandi è il modo di leggere il reale sia che si tratti di oggetti sia che si tratti di natura o di costruzioni come nel caso di queste casette o delle case del campiaro è sempre lo stesso lui ha un modo di restituire quindi di ricreare nell'immagine una realtà diversa da quella poi oggettiva che è tutto suo e che si ritrovi in ogni sua ricerca ecco adesso possiamo passare dunque non so cosa dite è tardi datemi voi un po' di informazioni perché magari se no io passo decisamente allo studio di Bologna come volete Marilena sentire qualcosa volentieri anche sui luoghi del lavoro quindi gli studi quello di Bologna mi sembra molto significativo in quanto luogo in cui naccono le opere di Giorgio Morandi di tanto vedo già un'immagine che riconosco e che lo posso stimolare a discorsi molto interessanti non so se Alessandro è d'accordo ma procederei in questo senso va bene va bene allora proseguiamo benissimo appunto questa prima immagine è una foto di Luigi Ghirri Luigi Ghirri è stato dunque non dico moltissimi molti fotografi ma soprattutto i più bravi molti fotografi bravi diciamo così hanno potuto fotografare lo studio di Morandi in via Fondazza a Bologna lui vivo anche cioè li accoglieva volentieri e anche dopo le sorelle soprattutto Maria Teresa la più piccola quella che avendo 16 anni meno di lui ha potuta insomma vivere parecchio e quasi l'ha portato fino a noi Maria Teresa è sempre stata molto disponibile ecco per esempio questa è una foto di una serie che Luigi Ghirri fece appunto nello studio di Bologna sono foto notissime Luigi Ghirri ha fatto libri su questo io direi che sono fra le più belle perché tra Ghirri e Morandi c'è una sorta di come dire analogia affinità elettiva quasi complicità proprio nel come considerano la luce è molto vicina quella di Ghirri è una luce metafisica per certi aspetti che è molto vicina alla luce metafisica anche nelle ultime opere di Giorgio Morandi ecco questa adesso possiamo vedere anche la prossima immagine così ce la teniamo magari per parlare un attimo dello studio ecco questa è invece è una foto di Gianni Berengo Gardin noi incarichammo quando Maria Teresa Morandi fece la grande donazione al Comune di Bologna nel 91 per fare per aprire il Museo Morandi che si è aperto appunto il 4 ottobre del 93 nei mesi precedenti noi incarichammo Gianni Berengo Gardin di fare un servizio fotografico sullo studio nell'insieme e nei particolari perché una delle clausole della grande donazione era che lo studio gli arredi i mobili le suppellettili tutto venisse portata al Museo Morandi in uno spazio specifico e giustamente sistemato per mantenere le opere vicino agli oggetti e viceversa in modo che le persone potessero prendersi conto con una certa facilità del modus operandi di Morandi del suo metodo di lavoro e quindi noi dovemmo spostare dovemmo insomma toccò a me fra l'altro nell'agosto del 93 poco prima cioè due mesi prima di innovazione del museo spostare tutti questi oggetti uno per uno ma prima facciamo fare questo servizio questo lavoro a Gianni Berengo Gardini il grande fotografo milanese lo fece apposta tutto in bianco e nero proprio per non so lui ha fatto il discorso opposto per non sovrapporsi all'opera morandiana e poi nacque anche un libro che pubbliciamo sempre in occasione dell'inaugurazione con una mia presentazione proprio sullo studio che cos'è lo studio per Morandi dunque innanzitutto sapete era anche la sua camera da letto cioè lui si vede un pochino qui si intravede un angolo della Dortmese quella che si chiama anche una turca cioè è una rete un materasso una rete sopra una coperta basta lui viveva io penso sempre a questo uomo che vabbè durante il giorno andava in giro ma quando entrava nel suo studio poi ci dormiva anche quindi dormiva in mezzo all'odore di acquaraggia dell'olio eccetera viveva in questo modo e in questo studio ad esempio al centro c'è una lampadina che pende c'è un filo con un'unica lampadina sapete con quei coprilampada in opalin un po' vecchiotti tipo fine ottocento oppure insomma anche anni 20 e 30 bene quella era l'unica luce perché perché lui dipingeva solo a luce naturale dalla grande luce che dalla luce che entrava da quella grande finestra che abbiamo visto nella foto di Ghirri prima e la sera appena insomma calava la luce cosa poteva fare allora disegnava oppure leggeva oppure pensava ma non ha mai né inciso né dipinto con la luce artificiale e quindi questo già vi dà il quadro di come poteva lavorare aveva questi due ripiani che vediamo qui quelli coperti di oggetti e quel tavolo che sta vicino al letto e quindi praticamente dalla porta quella porta che si vede là in fondo dà in un'altra stanza la porta d'ingresso è qui sulla sinistra vicino alla stufa diciamo e poi sempre qui sulla sinistra viene il tavolo noi è come se fossimo in questo momento dalla parte della finestra e sulla parete di destra c'è il letto e poi attaccava a dei chiodi nel muro i quadri o anche le incisioni man mano che le incisioni si vede perché gli piacevano cioè se le tenevano e tenevano esemplare ovviamente e invece i dipinti li appendeva anche per del tempo prima poi di darli di consegnarli alla persona a cui l'aveva promesso perché c'era una lista d'attesa che non finiva mai questo dagli anni diciamo 40 in poi insomma dopo la guerra ecco che cos'è lo studio per Morandi indubbiamente è una sorta di come dire innanzitutto è la come potremmo dire il modo per è l'amplificazione l'ampliamento di se stesso cioè questo è il modo in cui Morandi vede la realtà sono dei frammenti di realtà attraverso i quali lui coglie e cerca di comprendere l'insieme il tutto il totale e quindi è una sorta di campo dove gli oggetti e le cose si mettono in relazione fra loro quindi in senso che è staltico proprio è anche di teoria della percezione è anche il luogo della memoria cioè dell'accumulo di una memoria visiva di cui non può perdere traccia infatti in un'intervista del 64 l'ultima al suo amico Arnaldo Beccaria Morandi dice ho molto rispetto per gli oggetti che ho usato almeno una volta cioè non butta via assolutamente niente e parla di rispetto perché per lui ogni oggetto è come parte come l'anello di una catena è parte di una catena che ha un senso considerata tutto insieme no? ed è il motivo per cui fa anche le varianti quindi la ripetizione gli serve per scavare per scavare a fondo e ogni oggetto ha un suo ruolo preciso ed è per questo che accanto allo studio qui non si vede c'è una porticina nascosta nell'intonaco subito fuori dalla porta d'ingresso nella camera precedente che dà in un piccolissimo ripostiglio con una finestrella piccina piccina dove Morandi ha accumulato gli oggetti magari importantissimi ma che negli ultimi anni non usava più per cui ad esempio tra le altre c'è anche la famosa bottiglia scanellata quel bottiglione grande grosso che è uno dei suoi protagonisti della scena Morandiana proprio una specie di primatore questo bottiglione e poi ci sono i manichini metafisici ci sono le terre che lui ha usato fino alla fine degli anni 30 dopo ha cominciato a usare i colori in tubetto insomma le conchiglie le conchiglie di diverse incisioni che invece nei quadri è usato solo nel 43 insomma tutto ciò che verso la fine negli ultimi anni non ha più usato ma che era estremamente importante per lui viene messo e è stato messo in questo ripostiglio mentre invece tutti gli oggetti che vedete qua soprattutto quelli sui ripiani sono quelli che lui ha usato negli ultimi tempi anche perché dopo la sua morte le signorine cioè le sorelle hanno conservato tutto in maniera tipo vestali veramente di un culto del fratello hanno conservato tutto in maniera stupenda in maniera perfetta proviamo ad andare avanti non mi ricordo più cosa ho messo dopo vediamo subito ecco questo invece è lo studio di Grisana è vuoto quando dunque le signorine hanno mantenuto anche la casa di Grisana e quando è morta l'ultima sorella ha lasciato tutta la villetta al comune di Grisana Morandi nel frattempo Grisana ha preso proprio il nome Grisana Morandi e quindi adesso è una specie di piccolo museo di casa museo e lo studio voi lo vedete così in realtà quando ancora c'era Maria Teresa Viva e l'aveva tenuto come lo teneva il fratello la finestra di fronte era chiusa perché gli dava fastidio era una luce troppo forte e invece lui guardava tutto da questa finestra qui a sinistra e poi naturalmente si era stato pieno di quadri pieno di cose siccome la villetta è del 58 questa è una casa diciamo senza particolari insomma recente poi stata forse ripulita cioè il fascino che ha lo studio di Bologna che aveva scusate che aveva perché adesso è un disastro che aveva lo studio di Bologna lo studio di Grisana indubbiamente non ce l'ha a Grisana però Morandi ha fatto negli ultimi anni anche delle nature morte molto belle quindi lo studio per Morandi soprattutto quello di Bologna ma anche questo di Grisana è una specie di scatola non voglio dire scatola magica ma pensate all'ossessione della scatola anche negli artisti del novecento che so dalle scatole metafisiche di De Chirico e dello Sto Morandi le cassette di alcuni dipinti morandiani metafisici fino alle scatole di Cornell insomma c'è proprio Cursuiters c'è proprio una sorta di filone perché è uno spazio come dire controllato in cui è possibile questo confronto con il reale ed è molto particolare questo modo di costruire praticamente già la composizione di oggetti è come se è tutto racchiuso negli assi cartesiani è organizzato sugli assi cartesiani e quindi ha questa sua come dire così questo impatto tutto interiore è come se ci fosse una sorta di non implosione però di sguardo all'interno del sé ecco questo sì e poi questo oggetto scatola che è il quadro è compreso una scatola più grande che è lo spazio dello studio quindi lo studio in sé è un'opera d'arte quando si parla di un artista come Morandi è un luogo della memoria è questa specie di ortus conclusus ricorda in qualche modo lo studiolo rinascimentale con la grande differenza che lo studiolo per gli umanisti o anche gli uomini del nascimento che so Federico da Montefeltro eccetera è il luogo per gli ozia cioè viene separato il tempo della vita attiva da quella della vita contemplativa i negozia e gli ozia invece per un artista del ventesimo secolo lo studio è tutto non c'è più questa distinzione fra il dentro e il fuori potremmo dire lo studio è il luogo del pensiero della trasformazione dello sviluppo dell'opera naturalmente della prima idea e quindi è della vita Morandi ci dormiva Morandi ci viveva lì dentro e quindi è uno studiolo ma rispetto allo studiolo antico ha questa valenza in più appunto di un luogo vissuto completamente c'è l'identificazione è come come dire una proiezione ecco una proiezione del sé quindi lo sguardo all'interno e al tempo stesso questo aprirsi all'esterno nello studio però all'interno dello studio ecco proviamo ad andare avanti ancora vediamo cosa vi ho portato sono adesso dopo facciamo una bella carrellata di nature morte perché naturalmente con Morandi non si può ecco l'amore per i libri questa foto vediamo Morandi che sta cioè non è che stia sfogliando in questo momento ma lì davanti a sé ha il Piero della Francesca di Roberto Longhi nell'edizione famosa edizione di Valori Plastici Maria Teresa la sorella testimonia quando dice i libri di Longhi lui li aveva sempre in mano li sfogliava in continuazione questo e anche gli altri naturalmente ma naturalmente il Piero della Francesca ecco ancora una parola i libri di Morandi sul suo comodino quando è morto evidentemente erano rimasti alcuni testi che lui teneva sempre carissimi fra questi quello che a parte Leopardi assolutamente ma di Leopardi non teneva però stranamente che so le operette morali o lo Zibaldone teneva proprio i canti teneva i canti però sappiamo che le operette morali e lo Zibaldone lui le leggeva insieme a Giuseppe Raimondi quindi i libri poi li leggeva anche se non li aveva lì fisicamente sul comodino ma il libro cioè diciamo il testo più importante che lui tiene sempre con sé è quello dei pensieri di Blaise Pascal e Blaise Pascal è fondamentale per Morandi neanche come dire ce ne restituisce l'aspetto etico assolutamente del suo lavoro questo lavoro questo rigore questa disciplina il fatto di stare bene in una stanza sapete che nel 2020 all'arrivo della pandemia di Covid e del conseguente immediato lockdown soprattutto in America Morandi è stato eletto a campione della solitudine dello star bene in una stanza ecco io questa cosa l'ho un po' contestata perché come dicevo all'inizio sì Morandi desiderava disperatamente poter lavorare quindi star tranquillo una delle sue frasi principali era sempre che mi lasciassero lavorare insomma però proprio perché perché lo diceva perché di fatto doveva fare tante cose ricevere persone andare in giro quindi e poi soprattutto aveva rapporti costanti non era un solitario ma un solitario aperto al mondo è un po' sembra una contraddizione in termini ma è assolutamente vero ecco vorrevo appunto concludere con un po' queste due sequenze che ho portato una tutte del dopoguerra perché perché come ha intuito stupendamente Roberto Longhi beh devo dire oltre a Roberto Longhi l'altro che l'ha capito era Ghianti proprio adesso io cito Longhi perché è una frase che è diventata una specie così di simbolo ma appunto nel testo in morte di Morandi nel 64 Longhi scrive che quella di Morandi non è stata una parabola cioè non ha un punto di massima altezza per poi ridiscendere parlo della sua arte ovviamente ma è una traiettoria ben tesa e quindi secondo Longhi e secondo Raghianti e forse sono gli unici due che l'hanno capito allora dopo no l'arte di Morandi non c'è un punto e poi c'è una discesa va sempre in salita e sempre diciamo più non solo interiorizzata ma anche più raffinata si raffina via via l'ultima stagione di Morandi è straordinaria e quindi e questo oggi devo dire da parecchi anni da una ventina abbondante d'anni è quello che è condiviso diciamo da tutta la critica internazionale anche in Italia fino a circa vent'anni fa si pensava che il punto più alto dell'arte morangana sia stato quello della metafisica oggi si pensa che la metafisica senza altro è stato un punto straordinario ma come poi ce ne sono stati altri e che comunque questo come dire questo filo conduttore si è sempre mantenuto teso e lui ha lavorato in maniera sempre più come potrei dire è difficile tra la parola comunque non dico perfetta ma insomma sempre più intensa in questa assoluta semplicità fino al suo ultimo giorno ecco quindi le opere che vi ho portato sono tutte del dopoguerra perché in effetti altrimenti se uno appunto deve fare un discorso più come dire più articolato se volete più filologico sull'arte morandiana devo dire sinceramente che è mezz'ora o anche 40 minuti non bastano ecco magari vediamo un po' in fretta queste ultime immagini ecco prima una piccola sequenza di fiori 1946 vedete cosa dunque Morandi smette non dipingerà più fiori veri fiori vivi recisi praticamente appunto da quest'epoca comincia a utilizzare per i suoi dipinti di fiori e nei primi anni 50 ne fa parecchi usa rose di seta sì c'è qualche fior lo vedremo un fiore fresco ma è rarissimo perché i fiori freschi svaniscono ecco guardate anche questo del 54 particolarissimo con quella linea nera quella fascia nera dietro che però da così risalto sono rose di seta che vengono da un artigianato bolognese del 700 del XVIII secolo prendevano i piccoli come si chiamano i bozzoli del baco che già naturalmente sono fatti così e vengono aperti e colorati insomma è una cosa particolare e lui li trova li raccoglie ecco questo invece del 57 vedete questi sono fiori vivi ed è molte volte nei fiori lui stringe al centro vedete la tela tutta preparata però viene diciamo messa in risalto solo la parte centrale ecco con questi colori vivissimi ogni tanto Morandi ha questo ecco invece poi guardate gli ultimi cosa sono gli ultimi questo apparteneva alla collezione Plaza che poi fu dispersa all'asta molti anni fa ecco questo qui è un po' più giallino in realtà è come una sinfonia di grigi incredibile guardate cosa sono diventate le sue rose con questo tavolo che crolla giù a destra in maniera scusate a sinistra in maniera incredibile anche il vaso ha perso colore tutto si sta veramente come dissolvendo e se vediamo l'ultimo guardate questo è uno degli ultimissimi del 64 questo cosa sono diventate le roselline di Morandi quasi io penso sempre agli intricati come potrei dire meandri di un cervello c'è qualcosa di organico c'è qualcosa persino di alcuni artisti poi c'è tutto un discorso su Morandi l'arte contemporanea ovviamente ma non c'entra niente ecco vedete chiusa al centro rimane solo questa forza questa forma quasi organica e così ridotta all'estremo ecco questo per darvi un piccolo su come anche i fiori siano importantissimi per Morandi lui queste opere praticamente non le ha mai vendute un po' perché forse non gliele compravano non lo so ma le regalava le regalava in occasione che so ad un matrimonio per esempio alla moglie di Longhi alla moglie di Piero Bigongiari insomma era uno dei regali che lui teneva però per i suoi amici veri cioè per quello che lui stimava veramente se no regalava anche lui un vassoio d'argento o qualcosa ecco arriviamo all'ultima serie di Nature Mort anche queste queste qui cominciamo dal 50-51 guardate come vola quel tavolo a proposito della prospettiva e della realtà di Morandi è chiaro che Morandi conosce a menadito perfettamente la prospettiva ma la usa quando vuole e così fa per tutte le come dire le convenzioni che in pittura si usano per il reale ecco qui siamo di nuovo a una sinfonia di Grigi i suoi personaggi negli anni 30 affollavano affollavano il primo piano il proscenio per essere tutti lì per essere tutti sempre quasi che si litighino insomma il palcoscenico man mano si dirandano questo è uno dei quadri che amo di più in assoluto ecco di nuovo vedete quella polvere che dal fondo entra nell'oggetto piccolino e dalla bottiglietta blu esce poi apre apre lo spazio come negli acquerelli non ho portato acquerelli dell'ultimo periodo che sono incredibilmente commoventi vedete ecco questa serie ve l'ho portata tutta con questo bottiglione bianco apposta per farvi vedere come può essere declinato in tanti modi diversi sempre contro questa specie di che poi per fortuna tra le persone intelligenti e colpe non c'è ma insomma si sente ancora dire della monotonia di Morandi mi sembra una cosa un po' folle ma vedete la differenza di colore la differenza di impostazione ma in queste 4-5 natura e morte che vi ho portato ho scelto sempre il bottiglione proprio per farvi vedere come con gli stessi oggetti ecco guardate anche questo colori diversissimi luci diversissime gli oggetti sono al limite simili ma anche il punto di vista dal sotto in su questo è preso dall'alto in basso per esempio e quindi cambiava a seconda delle luci del giorno a seconda lui era un uomo molto alto quindi lo faceva apposta naturalmente se dipingeva in piedi vedeva il cavalletto lo vedeva dall'alto verso il basso se si sedeva sul letto lo vedeva praticamente così con gli occhi a livello del cavalletto e quindi insomma c'erano anche tutti questi semplicissimi accorgimenti andiamo ancora vedete sempre questo qui sta a Bergamo all'Accademia Carrara ancora questo bottiglione e qui torniamo ai grigi come abbiamo visto prima quell'ultimo fiore qui siamo già nel 57 58 siamo un po' avanti già andiamo ancora ecco concludo con due opere che per me sono due coppolavori assoluti questo è del 60 1960 fa parte della famosa collezione Giovanardi da Augusto Giovanardi ora tenuto devo dire benissimo dalla figlia Paola e dalla nipote Cristiana Curti che la stanno gestendo veramente molto bene con grande passione con grande cura ecco questa è una delle opere che io prediligo in assoluto perché vedete la bottiglia bianca al centro a parte che è prospettiva centrale perfettamente assiale cioè divide proprio lo spazio in due come l'albero sesaniano dell'inizio ma poi sembra soprattutto quando lo si vede dal vero che da questa bottiglia che questa bottiglia sia come il fulcro la sorgente del colore cioè dal bianco che è tutto colore come si sa raccoglie in sé tutti i colori nascono tutti i colori e le forme che vediamo intorno e per concludere ecco questo è del 63 è un'opera meravigliosa sta al Museo Morandi sta ma sta non so più che verbo usare ormai che tempo usare del verbo ma fu donata da Maria Teresa Morandi appunto nel 91 con questa grande donazione che ha consentito l'apertura con 118 opere in quel momento ha consentito l'apertura del Museo Morandi ed è un capolavoro assoluto qui si vede per esempio il gioco dell'illusione ottica di Morandi e l'ha imparato facendo le incisioni facendo grafica il positivo negativo per Morandi la pratica incisoria è stata fondamentale gli ha insegnata appunto delle mi uso apposta questa parola illusione ottica cioè vedete qui le forme quelle forme più scure che compaiono fra gli oggetti bianchi in primo piano creano nuove forme che sono poi di una geometria del tutto folle a questo punto inventata ecco e così come la materia della bottiglietta qui a sinistra che è un oggetto di scavo romano e allora quando lo si vede dal vero si vede questa materia un po' scabra che ha tutto il vissuto di tutto il tempo che è trascorso così come la polvere che fa appunto da appunto di passaggio fra l'esterno e l'interno questa è un'opera esposta al Museo Morandi allora quando io ero lì davanti alla quale ho visto persone veramente diciamo commuoversi ecco finito tutto e vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie Milena Alessandro vuoi due vuoi di commentare qualcosa tu o anche io alcune questioni sì assolutamente ringraziare Marilena per questa bellissima conversazione presentazione e questo invito anche a ripensare alla geografia così così vasta questi tanti mondi che Morandi riesce ad aprire facendoci emozionare quindi davvero straordinaria sì e questo finale sulla grafica poi mi piace molto anzi e anche l'invito per una prossima per tornare su questi argomenti magari proprio vedendo quando poi il discorso grafico per Morandi assume quest'aspetto ancora di straordinaria disciplina grammatica linguaggio vocabolario capace di esplosioni come in pittura che regalano emozioni davvero profonde tu giustamente hai finito sulla commozione proprio pura commozione quella che Morandi davvero riesce a regalare Paolo io vedo tanti tanti apprezzamenti anche dei nostri spettatori che ringrazio molto Paolo vuoi aggiungere qualcosa io vorrei ringraziare moltissimo Marilena oltre che per la sua presentazione come sempre brillante competentissima anche per la capacità in poco tempo di sfatare molti miti il mito appunto del Morandi quasi monomaniaco addirittura monotono il Morandi che sta sempre chiuso nella sua casa nel suo studio di via fondazza era appunto le città oltre a Bologna ci sono Milano Firenze Venezia Roma e devo dire che poi personalmente mi colpisce la ricchezza di altri generi praticati da Morandi oltre a quello più noto della natura morta i paesaggi straordinari questi fiori veramente spesso commoventi ma anche nelle nature morte vedo è uno spunto che mi è venuto questa sera qualcosa di quasi musicale un tema con variazioni di fatto è come se l'intera produzione di Morandi delle sue nature morte fosse un'opera unica in cui a partire da alcuni temi sono sviluppate variazioni potenzialmente infinite Beethoven su un piccolo tema di Diabelli e c'è 33 variazioni di fatto Morandi su alcuni pochi elementi ha fatto un numero ancora più elevato di variazioni quindi vedo qualcosa del principio musicale in tutto ciò assolutamente sì sono assolutamente d'accordo con te pensa che per anni quando mi mettevo a scrivere di Morandi io mettevo su come si dice insomma ascoltavo la musica le variazioni Goldberg di Bach perché in effetti io amo di più Bach ma insomma è lo stesso il concetto è quello cioè c'è molto di musicale non solo per i ritmi non solo per il concetto di variante soprattutto per le pause e i silenzi che riempiono poi e danno senso alla forma insomma e quindi èissimo sono assolutamente d'accordo con te può essere visto come un'opera unica modulata in tantissimi modi diversi con una coerenza comunque sviluppo e coerenza cioè non è mai uguale di opera in opera ma al tempo stesso in effetti è vero c'è una coerenza totale come se fosse un'opera bene allora io veramente torno a ringraziare Marilena Piscuali per questo bellissimo regalo che ci ha fatto ringrazio tutti i presenti ringrazio Paolo e Bolpagni peraltro dando appuntamento a breve per un altro incontro in queste in questa rassegna di storie dal novecento che però ripeto continuano a emozionarci ci possono dare tanto oltretutto Marilena molto bello anche l'accenno che hai fatto al Morandi oggi il Morandi nel senso proprio di questo momento storico ne può essere visto anche forse mal interpretato insomma qui c'è sarebbe da dire sulla solitudine dell'artista e la solitudine del mondo ma discorsi molto complessi però estremamente interessante anche l'accenno che hai fatto al Morandi contemporaneo che è un tema bellissimo apre davvero altri mondi Paolo grazie ancora un saluto chiudo subito il microfono perché qui alla fondazione Ragianti i giardinieri si sono messi improvvidamente a facciare verba quest'ora e quindi non voglio far sentire anche a voi il frastuono ma anticiperei nel ringraziare tantissimo nel complimentarmi con Marilena Pasquale che il prossimo appuntamento sarà il 13 aprile con Martina Corgnati che su questi stessi schermi come si dice con gergo televisivo parlerà degli echi etruschi nell'arte del novecento quindi insomma un altro tema del novecento ricco di molte implicazioni anche in questo caso con un addentellato molto raggiantiano che emergerà stasera come abbiamo parlato molto di Ragianti è stato citato ma evidentemente Marilena ne aveva già parlato in una presentazione fatta pochi anni fa qui alla fondazione Ragianti e fu una splendida lezione quindi la ringrazio ancora una volta così come ringrazio Alessandro e tutti coloro che ci hanno visti e ascoltati che soprattutto hanno visto e ascoltato le sapienti parole di Marilena Pasquale grazie ancora a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti